Gli abitanti di via Papini sono al limite della sopportazione a causa delle buche e dei pericoli che queste rappresentano per loro e per quanti vi transitano, ma anche per una totale assenza di prospettive di un rifacimento del manto stradale a breve termine. Hanno interpellato più volte l'amministrazione, ma la litania è sempre la stessa, assenza di fondi. Ma ora, con l'approssimarsi della brutta stagione, le loro ansie e la loro rabbia aumentano. Veramente sono, penso, 15 anni che non mettono mano in questa strada. L'abbiamo più volte segnalato, sia tramite via mail che diverse persone hanno mandato le mail e ci hanno risposto picche che non hanno assolutamente soldi per risolvere il problema. Noi comunque ci chiediamo perché per alcune strade li trovano i soldi, perché hanno fatto delle strade molto meno trafficate di questa e l'hanno fatta. Questa qui è una strada che collega Fano a Rosciano. Noi non possiamo essere abbandonati in questo stato. Vogliamo una risposta perché l'inverno arriverà presto. Anche perché questo tratto di strada che continua in via 4 Novembre è una valvola di sfogo per quanti vogliono, nelle ore di punta, bypassare la più congestionata via Flaminia. La risposta immediata come minimo. Poi l'intervento, adesso se si tratta di qualche mese, ma no che fino al 2016, perché questa è la loro risposta, non hanno niente in programma per questa zona. Niente per tutto il 2016. Si tratta di un altro anno e mezzo, assolutamente. Affrontare un inverno con queste condizioni è impensabile. Non è possibile, è impensabile. Le tasse le pagano tutti. Diceva c'è una concomitanza anche con il traffico della Flaminia che invece in questo tratto qui viene utilizzato. Qui è più scorrevole, quindi spesso il mattino, io so anche chi abita a Cucurano, spesso il mattino passa qui per accompagnare i figli a scuola, per evitare tutto il traffico della Flaminia. Ora poi a peggiorare le cose ci si è messo anche un sottopasso dell'autostrada che è stato sia asfaltato dalla società autostradale, ma abbassando il livello del manto stradale. Il terzo mondo perché non se ne può più. Mio figlio si è rotta una gomma, il marito di mia figlia si è rotta una gomma. Paga mai nessuno. Di sotto il ponte tutte le volte che fanno un sprullone fatto bene, prima non era mai successo, adesso mezzo metro d'acqua e più. Perché le fogne sono piccoline, la strada l'hanno abbassata perché avevano sbagliato il sottopassaggio, si entrava a una certa altezza, si usciva da un'altra altezza. Cosa fa? L'hanno grattato sotto. Chiedete un intervento urgente. Noi chiediamo un intervento urgente, vogliamo una risposta urgente, non aspettare altri due anni.